Buongiorno e ben ritrovati con un nuovo appuntamento di prima mattina la rassegna stampa di Super J oggi è sabato 5 novembre 2022 si festeggia San Zaccaria 44 settimana quella che stiamo per concludere di questo 2022 309 i giorni che ci siamo di fatto lasciati alle spalle ne mancano 56 per chiudere questo 2022 il buongiorno da parte mia e da parte di Cristian De Luca in regia rassegna stampa andremo a sfogliare i quotidiani che sono in edicola e poi alle 9 ci ritroveremo a Bellante per il tradizionale appuntamento con a colazione questa mattina parleremo di teatro dialettale ma partiamo subito per ordine e andiamo con le prime pagine del quotidiano Il Centro partendo dall'edizione di Pescara che trovate già in edicola il titolo di apertura cuccioli uccisi veterinario nei guai Pescara inchiesta sul canile dopo l'esposto di un'associazione animalista i titoli sotto la testata c'è il nuovo report settimanale per quanto riguarda il covid in Abruzzo da questa settimana di fatto è settimanale il report del covid infatti i numeri restano alti ma ovviamente non devono trarre in inganno perché si riferiscono ai dati di una settimana covid 4.448 contagie 16 morti la pandemia fa ancora comunque preoccupare regione lo scontro sugli aiuti Marsiglio un miliardo di fondi dall'Europa ma il PD contesta i dati ancora le notizie che arrivano per quanto riguarda la prima pagina il quotidiano Il Centro edizione di Pescara nelle cronache Maxi Multa a Media World le indagini partite da Chieti sanzione da 3,6 milioni sempre da Pescara vandali in sede la CGL in piazza dopo l'assalto la fotonotizia della prima pagina del quotidiano Il Centro è dedicata a un argomento che è di strettissima attualità ed è scoppiato di fatto tra virgolette nelle ultime ore riguarda la ginnastica ritmica si allarga il caso delle denunce al mondo della ritmica anche in Abruzzo noi ginnaste siamo state maltrattate questo il commento a questa fotonotizia poi ancora non ha coraggio minacciata dai vicini Pescara anziana nel mirino dopo le denunce sulle case popolari Pettinari va aiutata nello sport il calciatore del Paris Saint Germain da Manopello fino a Parigi oggi Verratti compie 30 anni auguri al centrocampista ex Pescara partito da Manopello appunto ora capitano di fatto del Paris Saint Germain a Pescara è stato approvato il piano del comune ecco i lavori in città per il 2023 in programma interventi su strade parchi e campi sportivi ancora per quanto riguarda le altre notizie Bucchiani con nonno ucciso di botte nipote subito a processo e si parla ovviamente in prima pagina anche di altro sport quello strettamente legato alla regione Abruzzo con il calcio di Serie C e il patto del gol per il Pescara tra Lescano e Cuppone che sono i due attaccanti principali della formazione allenata da Colombo che è al terzo posto in classifica dall'edizione di Pescara ci spostiamo a quella di Teramo il titolo di apertura è dedicato all'università università gli studenti sono in calo Teramo numeri dimezzati in 18 anni il rettore assicura iscrizioni in ripresa ancora per quanto riguarda le altre notizie arriva appunto da Pescara l'inchiesta con i cuccioli uccisi in un canile sono due gli indagati e poi ancora lavori a scuola chiesta l'archiviazione tra gli indagati l'ex sindaco Brucchi il dirigente Bernardi è un imprenditore il lutto a Giulianova per la storica insegnante addio alla maestra dei giuliesi Anna Canzari aveva 85 anni tra i suoi alunni anche il sindaco Roseto il ristorante lo spizzico chiuso la marcord dei tifosi vi abbiamo proposto in settimana anche un servizio con la testimonianza proprio di del mitico Giuliano possiamo aggiungere noi che era il titolare appunto dello spizzico ristorante calcio di eccellenza il Giulianova dà l'assalto all'angolana sono 365 i biglietti destinati ai tifosi giallorossi per la gara di domani al Petruzzi di città Sant'Angelo dall'edizione di Teramo ci spostiamo a quella di Chieti Lanciano e Vasto con il titolo di apertura che è dedicato alla cronaca che arriva da Bucchiani che ha ucciso il nonno 15enne a processo la procura contesta al ragazzo l'aggravante dei futili motivi ancora per quanto riguarda le altre notizie Movida vietata due giovani violenti a Chieti proprio aggredire una coppia di sedicenni non potranno frequentare locali per due anni acqua nel Chietino il grande caldo prosciuga le sorgenti un problema annoso crisi idrica torna l'emergenza la Sasi fa scattare nuove chiusure tanti comuni sono in difficoltà a Chieti e scontro sul segretario in consiglio comunale e poi notizia che arriva anche da Vasto punta penna 225 mila euro per salvare la spiaggia dall'edizione di Chieti ci spostiamo a quella di L'Aquila Avezzano Sulmona con il titolo di apertura legato alla viabilità è pronta una rivoluzione si parte con il prolungamento di Viale Ovidio e il ponte Belvedere ovviamente ci riferiamo al capoluogo di regione all'Aquila Bancarotta indagati Paris e altri sei l'inchiesta coinvolge il presidente dell'Avezzano Calcio e riguarda la gestione di supermercati al lato della fotonotizia di cui abbiamo trattato in precedenza c'è un nuovo libro di Bruno Vespa da Mussolini a Giorgia Meloni la grande tempesta con cento anni di storia scritto appunto dal giornalista aquilano Bruno Vespa il GSSI attira cervelli dal mondo l'istituto d'eccellenza cresce arrivano altri 48 dottorandi l'Aquila e i suoi scienziati per quanto riguarda sempre l'Aquila bloccata la demolizione delle casette provvisorie a Sulmona nuove regole sulla Movida orari ridotti per la musica e noi dal quotidiano il centro ci trasferiamo al quotidiano il messaggero partendo dall'edizione nazionale il titolo di apertura è dedicato alle bollette pronti 32 miliardi piano per il gas nazionale dal consiglio dei ministri sì alla Nadef indebitamento al 4,5% flat tax partenza graduale metano scontato con le trivellazioni pensioni ipotesi 61 anni e 41 di contributi piante dosi stretta sulle navi ONG in rada solo per soccorsi ai fragili viminale controlli a bordo poi respingimenti decreto rave Meloni apre a modifiche ma è inaccettabile violare le leggi chi organizza pensi alla sicurezza sul lavoro ci sono alcuni titoli sotto la testata nato cento anni fa Snoopy Linus e Charlie Brown il fumetto poesia del genio Schulz film più libro i giorni di Nino Frassica niente satira meglio il surreale e mi piace Lundini ma trova spazio ovviamente nell'edizione nazionale del quotidiano il messaggero l'approfondimento sullo sport in particolare sul calcio di Serie A perché domani è il giorno di Roma-Lazio immobile fermo fa il mental coach la carica di Zagnolo la fotonotizia è dedicata agli Stati Uniti con prendersi a schiaffi adesso sarà uno sport il power slipper e disciplina ufficiale in Italia ci sono tornei clandestini la madre dell'allievo il pugno del prof ho punito mio figlio i genitori non giustificano lo studente provocatore se fosse rimasto al suo posto non sarebbe successo e ancora per quanto riguarda le altre notizie a Roma niente danni zuppa su Van Gogh e allarme sicurezza nei musei italiani entriamo nello specifico delle pagine interne del messaggero edizione nazionale Meloni 32 miliardi contro il caro energia e ora tocca all'unione europea il premier subito interventi per calmirare il prezzo del gas e per la riforma delle pensioni fondi dalle modifiche al reddito al momento le speculazioni si sono fermate ma non durerà a lungo modello PNRR per il patto di stabilità ma nel piano rischio gare deserte mercoledì 9 novembre la proposta di modifica della commissione Unione Europea obiettivi e verifiche come previsto per le opere pubbliche Trivelle arriva lo sblocco gas scontato alle imprese il metano nazionale non potrà essere ceduto a un prezzo superiore a 100 euro alle compagnie permessi decennali per estrarre 15 miliardi di metri cubi potranno essere attivati solo pozzi che hanno un potenziale di almeno 500 milioni di metri cubi il provvedimento arriverà in Parlamento sotto forma di emendamento per accelerare i tempi reddito stop all'assegno per chi è in grado di lavorare la riforma con la manovra sostegni economici per pensionati in difficoltà disabili e poveri le misure del governo riguardo le pensioni contributi a quota 41 è uscita a 61 63 anni sarà strutturale la riforma per superare la legge fornero verranno confermate le misure per opzione donna e ape sociale una clausola per il pubblico impiego premi per chi resta in ufficio dopo aver compiuto 63 anni il ministro Calderone e i sindacati il percorso non si esaurirà con la manovra ma sarà di legislatura ancora per quanto riguarda le misure del governo anche per il super bonus sconto al 90% prima casa favorita sgravi confermati per le villette solo se utilizzate dai proprietari ordine pubblico rave sia le modifiche ma rispettare le leggi Meloni sfida le proteste chi pensa la sicurezza sul lavoro piante dosi incontri sindacati nessun rischio per i cortei il fisco flat tax con partenza graduale l'obiettivo è alzare la soglia per i redditi fino a 85 mila euro l'emergenza sbarchi la ONG con i migranti viola le acque territoriali aperture dalla Francia il governo di Macron è pronto a farsi carico di Ocean Viking Roma non sia lasciata sola la Norvegia rifiuta qualsiasi solidarietà non abbiamo responsabilità sugli sbarchi fondi non tracciati contatti con scafisti le regole infrante dai barconi umanitari ancora per quanto riguarda lo stesso argomento navi bloccate in rada scendono solo i fragili a decisione del Viminale controlli medici a bordo poi i respingimenti piantelosi l'Italia rispetta le esigenze umanitarie ma coinvolgere i paesi bandiera andiamo avanti con l'edizione nazionale del quotidiano il messaggero ieri la ricorrenza del 4 novembre per le forze dell'ordine una pace giusta ritardi sulla difesa europea il capo dello stato il 4 novembre sia la giornata dell'unità delle forze armate il segnale l'Italia è divenuto un paese libero grazie al contributo dei militari Ucraina stoppa la guerra ora Letta insegue Conte invece a Milano manifestazioni la piazza di Renzi Calenda pieno sostegno a Kiev verso le regionali le mosse del terzo polo D'Amato e l'idea Moratti il partito democratico ora apre a un civico ancora per quanto riguarda le altre pagine del quotidiano il messaggero si parla delle notizie che arrivano dal mondo in particolare dalla Russia Putin i criminali al fronte Xi lo avvisa no al nucleare sciolza a Pechino sul tavolo il pressing per fermare lo zar e i rapporti economici freddi gli USA che annunciano la creazione in Germania di un hub per inviare armi a Kiev primo leader del G7 in Cina dall'inizio della pandemia cancelliere costretto a fare il tampone all'arrivo violenti si ma con fair play gli schiaffi diventano sport la notizia che abbiamo visto anche in prima pagina a Las Vegas i tornei di Power Slap ottengono il riconoscimento ufficiale negli Stati Uniti parte il primo campionato in Italia le gare si fanno in segreto saranno varate norme tecniche di sicurezza con classi di peso e protezioni per le orecchie minestrone su Van Gogh San Giuliano atto ignobile a Roma nuovo assalto degli ecovandali denunciate quattro universitarie italiane danneggiata la cornice del seminatore i periti olandesi analizzeranno il quadro tele senza vetro controlli insufficienti un vertice sulla sicurezza nei musei sfruttando solo i metal detector alle porte diventa impossibile scovare passate di verdure oppure il pugno del professore è l'esempio della madre mio figlio ha sbagliato non doveva alzarsi durante la lezione andare alla cattedra non è la vittima l'insegnante sospeso e denunciato io sereno il video è stato un tranello il ragazzo punito dalla famiglia deve capire che tutto è iniziato per un suo errore proteste emissioni punitive schiaffo ai genitori complici Miriam la rabbia del papà lei in obitorio mentre l'investitore è libero e se la spassa altro caso di giustizia che fa discutere che arriva dal nord Italia ancora per quanto riguarda le altre pagine del quotidiano il messaggero notizia che abbiamo visto anche in prima pagina il poeta del fumetto che vive per sempre il 26 novembre 1922 nasceva l'autore americano dei popolari Pinutes ecco perché le sue strisce e i suoi personaggi sono ancora attuali e amati nel mondo Charlie Brown e Linus dominano moda cinema e tv dopo il film del 2015 una serie per Apple TV The Snoopy Show Marco Gervasio della Disney sottolinea usando bambini affronta i temi delicati col sorriso come faceva Topolino ancora per quanto riguarda le altre notizie che arrivano dal mondo della cultura con c'è un mistero che tormenta l'isola di Gauguin è un romanzo che ricorda la lezione di Agatha Christie ambientato in un paradiso in terra insospettabile un rompicapo dal ritmo incalzante che costringe a riesaminare indizi e a decifrare tatuaggi Sibillini ancora per quanto riguarda il messaggero edizione nazionale andiamo alla pagina culture spettacoli con l'intervista a Nino Frassica niente satira sono surreale e non ho l'età mi sono divertito a scrivere e sulla copertina del libro mi sono travestito da donna volevo far ridere un po' ora vorrei girare una fiction sperimentale simile a varietà dove posso usare senza autocensura parla l'attore appunto Nino Frassica impegnato con un libro in uscita Paola una storia vera e un nuovo film i racconti della domenica dal 10 novembre nelle sale in tv troppi programmi usa e getta non c'è attenzione alla qualità ecco house party il mio omaggio all'hip hop d'italia è uscito ieri il primo disco solista del dj parliamo di Deda fra i padri del rap italiano con lui pure Neffa e Fabri Fibra ricordo le radici di un genere ancora per quanto riguarda il quotiano il messaggero andiamo alle pagine dedicate allo sport la resa dei conti domani Roma-Lazio sale la tensione oggi due tecnici non parleranno i giallorossi ora hanno un Nicolò in più e si parla di Zagnolo la banda Sarri si è di colpo riscoperta debole di carattere con l'allenatore che dichiara anche nel cervello esistono le cilindrate la carica di Zagnolo rigenerato è decisivo in tempo per il derby e poi ancora ancora attesa per il rinnovo i Friedkin intendono farlo ma non hanno fretta l'accordo scade nel 2024 la delusione in Coppa complica la vigilia immobile mental coach scatta oggi il ritiro obbligatorio pizza con Lotito in caso di trionfo il mistero del mago rischia la panchina in ballottaggio con Basic in vendita Mao sogna Rafa Silva Pedro voglio un altro gol da ex Cataldi sarà capitano quelle rimonte speciali alla José in Europa League ennesimo ribaltone finora la squadra è risalita cinque volte dallo svantaggio Tegola Napoli Kvarasquelia si ferma e salta la sfida con l'Atalanta per un problema muscolare episodio di lombalgia acuta per la verità lombalgia acuta che però non permetterà al forte giocatore georgiano sicuramente una delle più grandi sorprese di questo avvio di campionato di scendere in campo nel big match di giornata quello in programma oggi pomeriggio tra parentesi tra Atalanta e Napoli ancora verso il derby con i ricordi e soprattutto i pensieri di due grandi ex uno per parte per la Roma parla Amantino Manzini il mio tacco alla Lazio rimasto nella storia domani vinciamo 2 a 1 e dall'altra parte per la Lazio c'è Hernanes gestire le emozioni poi ci penseranno Zaccagni e Pedro e ancora per quanto riguarda le altre notizie silenziata la curva interista il divieto di tifo della questura dopo i fatti di InterSamp niente bandiere stricioni megafoni e tamburi per gli ultra sosterremo lo stesso la squadra per 4 di loro c'è il Daspo giornata importante anzi importantissima probabilmente per quella di domani per il moto mondiale perché si celebra l'ultimo gran premio nella comunità valenziana con Pecco Bagnaia che di fatto è un passo diciamolo dal titolo mondiale classe 97 nato a Torino pilota della Ducati ha bisogno di soli due punti di fatto per diventare campione del mondo nella MotoGP per la prima volta nella sua storia l'avversario è il francese Quartararò ancora per quanto riguarda il messaggero nazionale c'è la notizia che arriva dal tennis gioco vicino arrivabile Musetti eliminato nei quarti a Parigi con questo si chiude la rassegna stampa per quanto riguarda l'edizione nazionale del messaggero ma noi adesso ci trasferiamo alla pagina dedicata all'Abruzzo per quanto riguarda il messaggero io però prima vi ricordo anche alcuni appuntamenti che ci sono per la nostra programmazione domani soprattutto giornata di domenica perché ci saranno le solite trasmissioni alle 2.25 di fatto linea gol con l'ino nazionale per il pregara di fatto delle partite di eccellenza che inizieranno alle 2.30 oramai gli orari delle partite si sono allineati quindi tutti i campionati inizieranno alle 14.30 quindi anche qualche minuto prima delle 2.25 l'ino nazionale sarà con voi per il pregara dagli studi di Giulianova di Super J Adriatica per quanto riguarda poi la sera ovviamente alle 19 il tradizionale appuntamento con Bruzzo d'eccellenza con Luca Zarroli e Fabrizia Cardinale per vedere quanto è successo nel pomeriggio nei campionati di eccellenza ma anche di promozione con il Città di Teramo impegnato contro il Favale Città di Teramo che ha avuto una bellissima notizia ieri sera perché è stato chiuso l'accordo con Stefano De Giglio adesso lo andremo a vedere sul quotidiano il messaggero per quanto riguarda l'Abruzzo a 14 tornano Cantieri e Code rientro dal ponte auto in fila ieri per 4 km da Pedaso a Pescara Nord lavori per sicurezza e terza corsia i disagi si protrarranno almeno fino a giugno e poi la cronaca che abbiamo letto in precedenza il presidente dell'Avezzano crack dei supermercati indagato Gianni Paris uccise il nonno in un raptus nipote a giudizio l'imputato a 15 anni ha filmato il delitto sarà processato con il giudizio immediato a Lanciano Vandali chiude al pubblico Villa delle Rose la fotonotizia chiedi calci e pugni a ragazzini movì da locali vietati a due minori Giulianova non paga il conto al ristorante poi pesta gli agenti nell'articolo di spalla si parla di covid contagi in diminuzione ma i morti sono in crescita il primo bollettino dopo le nuove norme disposte dal governo ricordiamolo adesso sarà settimanale i titoli sotto la testata Teramo Università calo di iscrizioni per la carenza di servizi per quanto riguarda Pescara la CGL dopo il blitz ci attaccano ma non ci fermano andiamo avanti Serie C Pescara contro la Gelbison in dubbio Crasia o Palmiero e poi ancora per quanto riguarda le altre notizie sfogliamo le pagine interne del quotidiano messaggero Edizione Abruzzo si parla del nodo autostradale a 14 tornano le code a causa dei cantieri cantieri che di fatto erano stati interrotti per il ponte di Ogni Santi ieri auto in fila per 4 km nel tratto da Pedaso a Pescara Nord Lavori per sicurezza e terza corsia non si sa ancora quando termineranno adesso si spera che il governo amico della Meloni accelere gli interventi di potenziamento facchinetti del CNA secondo nostre ricerche le difficoltà dureranno almeno fino a giugno risparmio energetico interviene Ranieri della CGL dalla regione solo parole a vuoto la spesa è ok Abruzzo promosso e si parla di fondi europei ancora per quanto riguarda le altre notizie andiamo alle pagine dedicate a Teramo Ateneo iscritti in calo un vero crollo per giurisprudenza la facoltà con mille studenti non farà più di tanto da traino a Unite il rettore incide anche lo spopolamento delle aree interne secondo Mastrocola però la tendenza si sta invertendo immatricolazioni in aumento dal 2021 e meno abbandoni il plesso del risorgimento lavori regolari archiviazione per l'ex sindaco Brucchi medico contro il reintegro dei colleghi non vaccinati storia che arriva da Teramo scuola antisismica immensa senza gara a processo cerimonia del 4 novembre la pioggia non ferma la commemorazione al monumento dei caduti di tutte le guerre in Viale Mazzini notizia che arriva da Giulia Nova l'ascensore è rotto un'odissea Flaviano Ridolfi 55 anni inquilino di una casa popolare sono malato di cuore fare quattro piani a piedi mi toglie il fiato l'Ater dice che non trovano più i pezzi ma bisogna ripararlo in settimana nuovo sopra il luogo ancora proteste per i balconi SOS case popolari palazzi nel degrado i cani fiutano la droga 18enne nei guai in questo caso la notizia che arriva da Teramo e poi ancora cena in pizzeria e non paga il conto poi aggredisce i carabinieri è stato arrestato un 55enne ha anche tirato dei vasi danneggiato una staccionata e lanciato una sedia ai militari l'enteporto entra nel consorzio ittico e siamo a Giulianova e poi ancora la tennista Andrea Maria Artimedi negli Stati Uniti sogna il grande salto fa parte del circolo tennis di Mosciano una borsa di studio della Mizzou Università del Missuri le permette di allenarsi e crescere la 19enne rosetana Andrea Maria Artimedi che disputa il campionato con il circolo tennis di Mosciano del presidente Bianchini incidenti in autostrada feriti e coda chilometrica ancora coda quindi derivanti anche da incidenti non solo dalla questione legata ai lavori siamo allo sport Pescara i dubbi Cragia o Palmiero oggi l'allenatore Colombo proverà a recuperare il mediano italo-albanese contro la Gelbison in attacco spazio a Desogus con i big Lescano e Cuppone la punta Vergani pronta a subentrare a gara in corso stiamo crescendo dobbiamo continuare in questo modo Martorella da bomber a patron ha occupato tutti i ruoli in campo in panchina da dirigente e oggi da presidente della Curi per quanto riguarda le altre notizie parliamo del calcio di serie D notaresco affronta lo scoglio Pineto domani c'è un derby importante al Savini tra parentesi la squadra rosso-blu di mister De Patre che affronta la migliore delle abruzzesi nel girone F secondo in classifica ha superato anche il turno in Coppa Italia violando il Riviera delle Palme contro il Portodascoli parliamo ovviamente del Pineto ancora serie D la vastese cerca il successo nella trasferta a Senigallia l'attaccante Di Nardo senza la giusta sintonia non si vince in campo per quanto riguarda le altre notizie in eccellenza Ortona missione vittoria in casa del Castelnuovo il team di Savini in zona rossa cercherà di imporsi per dare una scossa alla classifica un lanciano su di morale si prepara per la Torrese lo stadio Biondi pronto solo a inizio del prossimo anno il match che si giocherà ancora al Di Vittorio di Scerni ancora per quanto riguarda le altre notizie lo dicevamo la notizia che arriva per quanto riguarda la promozione il Teramo prende Stefano De Giglio gran colpo quindi per la formazione del presidente Di Rastelli che era stata in procinto qualche settimana fa già di poter sottoscrivere un accordo con Stefano De Giglio che aveva iniziato la stagione in Serie C a Taranto poi le cose non sono andate in quel momento non c'è stata la fumata bianca è arrivata nel pomeriggio di ieri e già ha sostenuto Stefano De Giglio il primo allenamento ed è disponibile per la gara di domani contro il Favale in programma al Giampiero Pigliacelli di Montorio Alvomano noi con questa notizia chiudiamo l'appuntamento con la rassegna stampa di Super J di prima mattina non prima di avervi ricordato alcuni appuntamenti che riguardano i fischietti teramani per quanto riguarda la canna di Serie A e B parliamo di arbitri di calcio Di Martino Saravar in Cittadella Modena e Avar in Sandoria Fiorentina Daniele Paterna dirigerà Pisa Cosenza ma quello di oggi tra poche ore perché la gara inizia alle ore 15 anticipo di Serie A è una giornata veramente storica ed importante per l'Abruzzo e per Teramo perché Ermanno Feliciani fischietto neopromosso fa il suo esordio in Serie A andrà a dirigere al Castellani la gara tra Empoli e Sassuolo in bocca al lupo dunque a Ermanno Feliciani un altro tassello per l'Associazione Italiana Arbitri sezione di Teramo che conta ben tre fischietti della sua sezione nella canne di Serie A e B che adesso è canne unica e dunque io ringrazio Cristian De Luca in regia l'appuntamento con la rassegna stampa e di prima mattina si conclude qui alle nove saremo a Bellante con a colazione grazie e buon fine settimana a tutti Grazie a tutti